Buonasera telespettatori di Nettuno TV, buonasera a chi ci segue in streaming NettunoTV.tv Subito con le celebrazioni per il 10 anniversario della scomparsa di Donoreste Benzi perché quest'oggi si è parlata di una indagine sperimentale sulla presenza di tratta nel fenomeno dell'accattonaggio anche nella città di Bologna che è stata realizzata in collaborazione con il Comune. Ne abbiamo parlato con Andrea Di Stefano e Nicola Pirani del Servizio Antitratta dell'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII e ne sono molte fuori, ahimè, delle cose piuttosto pesanti anche per Bologna. Vediamo e sentiamo l'intervista di Michela Conficconi. Sicuramente se parliamo di un racket molto forte, quindi di controllo totale, quasi una semiriduzione di schiavitù le percentuali sono bassissime, si parla di poche unità su un totale di 168 persone. Se invece si parla di uno sfruttamento tra poveri, quindi tra persone in forte disagio sociale ed economico le percentuali sono sicuramente un po' più alte. Si può parlare di circa un 40%. Si potrebbe intendere sia i richiedenti asilo che devono pagare una quota per lavorare in un determinato posto sia le persone invece che pagano alti affitti, ad esempio per strutture occupate, cantieri edili, zone pubbliche che sono invece a pannaggio e sotto il controllo di alcuni connazionali. Stiamo accompagnando un gruppo di origine africana a fare denuncia nei confronti di chi lo stava sfruttando nel mondo dell'elemosina. Lui ha contratto un debito con una persona in Nigeria per fare il viaggio fino a qua. Sapete che nei vari passaggi dove vai, in Niger, Libia, tu devi pagare. Quindi lui ha contratto un debito per questo. Una volta che lui è arrivato al centro Mattei di Bologna è stato avvicinato da un emissario di quello che gli ha pagato il viaggio che gli ha detto guarda tu per ripagare il debito che hai contratto devi andare in quel posto e gli ha indicato il posto, fai le elemosine e mi devi dare al minimo 150 euro a settimana. Poi lui ne può dare anche 300, fa prima a estinguere il debito, però al minimo 150 euro e deve ripagare quasi 15.000 euro. E se non dovesse riuscire a pagare? E beh, dopo iniziano tutte le minacce nei confronti della famiglia, dei figli, delle persone che ha lasciato in patria. Situazioni davvero drammatiche e così sapere che purtroppo anche Bologna non si sottrae diciamo che purtroppo questo tema del tal tratta c'è anche nella nostra città. Ma andiamo invece a ricordare la figura di Don Oreste Benzi lo facciamo attraverso il Presidente dell'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII Ramonda Paolo Ramonda al microfono ancora di Michela Conficconi. Don Oreste capovolgeva al metodo di lettura era un trasgressivo nel bene e nell'amore e quindi lo capivano tutti, i giovani, i poveri lo capivano anche quelli che lo contrastavano perché alla fine dicevano che aveva ragione. Le famiglie che fanno parte dell'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII sono aperte, fanno spazio oltre che ai propri figli ma anche a quelli degli altri anche in condizioni di grave disagio e non solo. È un carisma, come dire, una missione che può essere solo delle vostre famiglie oppure è un messaggio che arriva a tutti? Tutti possono aprire le proprie famiglie? Sì, è un messaggio per tutti gli uomini e le donne di buona volontà chiunque può oltre ai propri figli naturali accogliere tra l'altro ci sono anche delle legislazioni la legislazione sull'affidamento familiare, l'adozione in Italia ci sono dei servizi sociali, una normativa che favorisce questo questo sarebbe molto importante divulgarlo, svilupparlo noi addirittura proponiamo anche per combattere il fenomeno della denatalità, il cosiddetto parto in anonimato cioè che già la legge lo prevede e che le donne se non vogliono tenere i propri figli possono farlo ma che li facciano vivere è perché ci sono persone, famiglie affidatarie ed attive che potrebbero prenderli. A che punto è il processo di canonizzazione di Donoresse? Sta concludendosi la fase diocesana penso nel 2018 tra l'altro quando coincide con i 50 anni della vita della comunità Papa Giovanni XXIII e speriamo che qualcuno per intercessione di Donoresse possa beneficiare anche di qualche guarigione allora la causa ovviamente andrà avanti. E permetteteci di restare ancora qualche istante su questa celebrazione, sul lavoro e Donoresse Benzi, sul suo carisma e anche su quello che ha rappresentato per la città di Bologna tra le opere nate dal carisma di Don Benzi la cooperativa La Fraternità che ospita un centro diurno per persone disabili compie 25 anni la struttura è presente alla noce di Mercatale a Dozzano dell'Emilia e in Piazza Renzo stiamo vedendo le immagini durante la festa per il decennale ha promosso anche un flash mob così come si chiama ne parla anche la coordinatrice Chiara di questo momento proprio diciamo di festa con questa realtà della cooperativa ecco vedete altre immagini belle di quello che è avvenuto nella piazza lasciamo a questo punto le attività della Papa Giovanni XXIII parliamo invece di bicicletta perché è un tema che sta tenendo banco in queste ore in modo particolare la multa le sanzioni le modalità con cui diciamo si è deciso di sanzionare i ciclisti indisciplinati e allora se ne è discusso che stamattina in una animata commissione consigliare Giulio Venturi di Insieme Bologna ha chiesto che le sanzioni vengano prorogate nel tempo andiamo a sentire al microfono di Michele Conficconi Quello che io oggi vado a chiedere è fondamentalmente quello che il sindaco Merola con ritardo sta applicando ossia agire in maniera decisa contro quei ciclisti che non rispettano le regole le regole già esistono in questi anni purtroppo non sono state fatte rispettare quindi chiedo che quei ciclisti che circolano contro mano che oggi vanno sotto i porticati sfrecciano sotto i porticati mettendo a repentaglio la salute di cittadini di bambini di famiglia oppure che passano col semaforo rosso vengano sanzionati in maniera decisa la mia non è una crociata assolutamente contro i ciclisti è una crociata contro quelle persone che utilizzano la bicicletta in maniera scorretta La stretta però è arrivata il sindaco ha intenzione di farla la sta facendo quindi sta agendo bene secondo lei? Ma io credo che finalmente il sindaco abbia preso una strada che sia corretta io sono mesi che sto invitando il sindaco ad adottare queste azioni che finalmente sembra aver intrapreso quello che oggi chiedo è che non sia tanto una trovata pubblicitaria spot ma queste sanzioni vengano prolungate nel tempo quindi come in questi anni c'è stato un occhio diciamo particolarmente attento verso quelle persone che sgarravano in automobile o con altri mezzi oggi anche chi sgarra in bicicletta venga sanzionato in maniera continuativa Abbiamo avviato l'ex assessore alla mobilità Colombo che invece chiede al sindaco di andarci piano nel senso vanno come dire Colombo dice è chiaro che chi sgarra deve essere sanzionato però dice vedo in qualche modo un'azione molto più intensa nei confronti dei ciclisti indisciplinati rispetto agli automobilisti sentiamo l'intervista a Colombo ma io credo che il rischio sia di passare da una impunità che non va bene perché tutti i comportamenti incivili devono essere sanzionati a rischio opposto cioè di una crociata simbolica contro un'unica categoria mi fa pensare questo rischio la sproporzione dei numeri in una giornata sono state fatte quasi 50 multe a bici sotto al portico contro mano multe assolutamente legittime e giuste perché i portici devono essere un'oasi di pace per i nostri bambini e i nostri anziani e in quella stessa giornata sono state fatte solo 3 multe per la violazione dell'ordinanza anti-smog alle macchine quando l'inquinamento uccide 90.000 persone all'anno solo in Italia e sono state fatte solo 5 multe in quella stesso giorno a autisti che guidavano col telefonino quando la polizia stradale ci dice che ormai è la prima causa di incidenti mortali quindi è importante ripristinare un messaggio equilibrato complessivo sulla richiesta di rispetto delle regole con la prevenzione e con la repressione nei confronti di tutti ciclisti compresi ma automobilisti e motociclisti non esclusi quindi multe sì ma con una certa gradualità c'è anche questo tema del fatto che sulle bici si è cominciato a fare multe letteralmente da un giorno all'altro con vigili in borghese quando per fare un confronto le multe per eccesso di velocità e i 50 km orari lo sappiamo da quando ci patentiamo a 18 anni in scuola guida è una regola che vige in città eppure gli autovelox le abbiamo accesi dopo oltre un anno di campagne di informazioni di vigili presenti in divisa la cronaca era salito su una scala per sistemare una tenda ridosso di una finestra di casa ma un capogiro o un'improvvisa perdita dell'equilibrio lo ha fatto cadere finito addosso alla finestra il vento si è rotto e l'uomo è precipitato dal quarto piano è la prima ricostruzione di un incidente domestico avvenuto oggi verso le 12.30 che purtroppo è costato la vita ad un 65enne abitante nella zona Massarente alla periferia di Bologna i soccorritori del 118 chiamati da alcuni vicini non hanno potuto fare altro purtroppo che costatare il decesso dell'uomo finito nel cortile interno alla palazzina stringeva ancora in mano il lembo della tenda alla quale si era probabilmente aggrappato disperatamente quando ha perso l'equilibrio a quanto si apprende il 65enne era da solo in casa e la porta era chiusa circostanze che farebbero escludere il coinvolgimento di altre persone nella caduta sul posto anche la polizia scientifica per i rilievi anche per i vigili del fuoco che hanno svolto alcune verifiche e messo in sicurezza la finestra ancora la cronaca un armadio pieno di armi e munizioni abbandonato lungo il fiume Idice questo ritrovamento fatto dalle forze dell'ordine di San Lazzaro nella giornata di ieri guidati dalla segnalazione di una cittadina gli agenti stavano coeseguendo un servizio di pattugliamento del territorio in località Borgatella quando sono stati avvicinati da una signora che ha riferito agli agenti di aver visto durante una passeggiata lungo il fiume Idice un armadio aperto con dei fucili e altri oggetti raggiunto immediatamente il luogo infatti gli agenti della municipale hanno ritenuto hanno rinvenuto scusate un armadio blindato di grandi dimensioni forzato in molti punti con lanta aperta di fianco alla quale si trovavano sei fucili ed una pistola con varie munizioni calibro 12 questo era il tema ricordiamo e ricordo che questa sera vi proporremmo dopo l'edizione del telegiornale in primissima serata uno speciale dedicato ad un centro che è stato creato si tratta del Fashion Research Italy per l'ideazione di Alberto Masotti ex patron della Perla che ha voluto mostrare alle nostre telecamere la fondazione che si trova in via del fonditore 12 a Bologna e si compone di un polo didattico uno archivistico uno di innovazione e ricerca quindi avrete la possibilità di seguire dopo la replica del nostro telegiornale o in prima serata questo appuntamento ma adesso apriamo la pagina dello sport e vigilia della gara con il Crotone scusate allora tocca Francesca Bolognini per lo sport grazie al direttore Francesco Spada buonasera anche da parte mia vigilia di partita domani alle 18 il calcio d'inizio allo stadio Dall'Ara contro il Crotone andiamo a sentire un pezzettino della conferenza stampa di Roberto Donadoni avendo l'intensità che abbiamo avuto anche a Roma quindi partendo da quella base contro un avversario che ha vinto l'ultima partita in casa con la Fiorentina dimostrando quindi di essere assolutamente un avversario vivo un avversario che giustamente ci crede che è convinto che ha delle caratteristiche ben precise che dobbiamo sapere e conoscere e detto questo mettere in campo tutte le nostre qualità che devono come ho detto prima partire prima di tutto da un impatto da un'impronta alla partita di grande convinzione di grande aggressività di grande decisione perché la partita di domani sarà un po' questa contro una squadra che cercherà di sfruttare molto bene le ripartenze le seconde palle e noi dobbiamo essere molto attenti in quello sono a disposizione sia Teider sia Baie che erano quelli che rientravano dagli infortuni direi che si sono allenati sono a disposizione della squadra e quindi non ci sono problemi da questo momento di vista per quanto riguarda Poli anche lui e Palacio hanno fatto un lavoro sempre un po' come dire differenziato oggi è chiaramente l'allenamento che ci darà l'ok definitivo per entrambi e quindi conto di averli a disposizione dopo di che metteremo la formazione migliore insomma e andiamo a sentire anche la controparte l'allenatore Davide Nicola è una squadra che va presa con la dovuta attenzione e l'ambizione di riuscire a essere competitivi ma trattandola come una grande squadra una squadra che è in grado soprattutto in casa di avere numeri importanti di mettere in difficoltà squadre molto importanti vedi Inter ed è una squadra che ha una mentalità da grande squadra cioè occupa davvero il campo con una sicurezza e alzando spesso e volentieri contemporaneamente i due terzini utilizzando la distanza tra i due centrali come fanno le grandi squadre pur non rinunciando mai ad attaccarti alla profondità avendo giocatori poi vedremo chi recupererà però avendo giocatori di livello importante sicuramente e quindi noi dovremo trattarla come una grande squadra con il il coraggio in alcune situazioni che sul quale stiamo cercando di lavorare soprattutto in questo periodo quando saremo consapevoli che alcune dimostrazioni di equilibrio e di coraggio si possono tranquillamente dimostrare anche fuori casa ci vuole solitamente un po' più tempo però a parte le due partite dove abbiamo incontrato due avversari sicuramente importanti e dove non siamo riusciti a livello di energia nervosa a essere competitivi abbiamo fatto più fatica nelle altre abbiamo fatto le partite che dovevamo fare Passiamo invece adesso al basket la Fortitudo chilo fuori 20 giorni anche Fulz probabilmente assente domenica per curare la tendinite ma i tempi di recupero saranno inferiori Cinciarini invece ha ripreso e sta bene parlando invece della prossima settimana per quanto riguarda la Fortitudo che ha reso noto che sono già disponibili in entrambi i negozi del Fortitudo Point i biglietti per il settore ospiti per la partita che la Fortitudo disputerà la Palacattani di Faenza venerdì 10 novembre contro l'Andrea Costa Imola i prezzi dei singoli tagliandi sono 12 euro per la curva e 25 invece per il parterre la Virtus c'è un cambio di programma riguardo alla programmazione televisiva dei bianconeri infatti l'Epicasa Brindisi contro Segafredo Virtus Bologna si giocherà domenica 19 novembre alle ore 17 spostata quindi alla domenica la partita era la nostra ultima notizia grazie a voi di averci seguito grazie alla regia di Mario Giuliente buon proseguimento di serata grazie a tutti